buona domenica ben trovati da firenze smart mauro ciutini studio in a1 tra firenze sud ed in pruneta un veicolo in avaria direzione bologna attenzione alla pioggia segnalata in a 15 siamo tra berceto e il nodo a 15 a 12 genova livorno veniamo alla 11 anche qui un veicolo in avaria tra pistoia e prato ovest direzione di firenze in a1 per lavori notturni il casello di monte san savino ricordo chiuso in entrata verso firenze in uscita per chi proviene da roma in alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di arezzo sulla statale 1 aurelia da domani lavori di pavimentazione sarà temporaneamente chiuso lo svincolo la california cescina sud in ingresso in uscita per chi viaggia in direzione grosseto termine dei lavori previsto il 30 di marzo è tutto guidate con prudenza ci sentiamo più tardi grazie regione toscana città metropolitana comune di firenze